Assolutamente no, perché come dicevo prima i dati già li abbiamo, quelli che sono i costi in termini di sofferenza, perché ormai stiamo passando da liste d'attesa che andavano a semestre a liste d'attesa, soprattutto in ambito di patologia ortopedica non elettiva, si rischia di arrivare all'animo, intervento sulla colonna vertebrale, la protesi del ginocchio, la protesi dell'anca, sono tutte sofferenze sia dal punto di vista della limitazione funzionale, sia proprio una sofferenza fisica per i dolori che comportano, ma al di là di questo, come si sottolineava precedentemente vi è un costo in termini di vite importante, pensi soltanto alla patologia cardiovascolare, cosa significa? Un 10% in più di mortalità annuale, stiamo parlando di patologie che hanno un'incidenza di circa 100.000 casi ogni anno, per quanto riguarda l'infarto neocardico per quanto riguarda l'ictus siamo intorno a 100.000, per cui un incremento di mortalità di 10% in un anno significa 20.000, 30.000 morti in più, avviciniamo la mortalità globale che abbiamo attualmente per il Covid-19, senza contare ovviamente tutte le conseguenze dal punto di vista delle patologie neoplastiche. I costi quindi sono elevatissimi, elevatissimi, le ricadute anche sul sistema produttivo sono importantissime, una popolazione in salute fondamentale per avere ovviamente, per mantenere il prodotto interno lordo, avere lavoratori appunto che hanno la capacità di sostenere l'incremento di produzione necessario. Abbiamo bisogno quindi di interventi rapidi su questo settore, non possiamo aspettare, io trovo, come dire, scandalosa, diciamola così, tutta questa riltosità che gira intorno al MES, cioè al finanziamento prontamente disponibile di 37 miliardi, con una sola condizionalità, e io dico meno male che c'è questa condizionalità, che è quella di erogare le risorse per coprire le spese dirette e indirette legate all'epidemia Covid-19. Noi potremmo immediatamente avere a disposizione 5 miliardi al mese, non il miliardo in più, i 500 miliardi in più che sono stati finanziati, per esempio, per quanto riguarda l'aumento di produttività necessaria per recuperare le strade spese, assolutamente insufficiente rispetto ai numeri che conosciamo, perché dovremmo semmai raddoppiarlo, se non triplicarlo. Abbiamo il finanziamento a disposizione, non bisogna aspettare i tempi del Recovery Fund, potremmo averli già da settembre e continuiamo a dire no per un pregiudizio ideologico. Io lo trovo scandaloso, una cosa del genere. Io penso che lo stigma non sarà per aver richiesto, nel caso di mancata richiesta, lo stigma cadrà addosso a coloro che si continuano a rifiutarsi di accedere a un finanziamento del genere. 5 miliardi al mese sono una cifra assolutamente, fino al massimo di 36 miliardi è quello che ci serve, anche per evitare una seconda ondata, perché mentre prima, lo avevamo già segnalato il 24 febbraio, il limite era della terapia intensiva, della disponibilità dei posti lenti di terapia intensiva, visto e considerato che, come dire, la fase territoriale era totalmente saltata. Per evitare la seconda ondata ora, abbiamo bisogno di una fase territoriale, cioè la diagnostica, i tapponi, tutto ciò che ne consegue, la capacità di tracciamento e la capacità di trattare a domicilio gli eventuali pazienti che ne avessero bisogno è, come dire, il limite che ci permetterà di mantenere una fase ospedaliera libera da sovraccarichi. Perché questo, cioè una fase ospedaliera, diciamo, non impegnata, così come era impegnata a marzo, poi a febbraio e fino a maggio, è fondamentale, fondamentale, va bene, per avere, per avere la possibilità di affrontare in sicurezza l'ordinarietà e tutto il carico di sofferenze e l'incremento della mortalità che questo comporta. Questo è il nodo che abbiamo di fronte ora, perché abbiamo incrementato la disponibilità di posti letti in terapia intensiva di 3.500, abbiamo 4.200 posti letti in subintensiva, di cui il 50% con gli opportuni investimenti può essere rapidamente trasformato in un posto letto di terapia intensiva perché è dotato di ventilatori. Ecco, questa fase ospedaliera però ovviamente rischia di non essere sufficiente se la fase territoriale non ha le strutture, gli uomini, le dotazioni tecnologiche per processare i tamponi, i reattivi per i tamponi e quindi tutta quella fase che si cerca di mettere in piedi e per cui noi abbiamo bisogno di investimenti. Attualmente siamo sui 70-80.000 tamponi al giorno, ovvero semplicemente ne abbiamo bisogno di 300.000 al giorno. Se vogliamo mantenere un'attività economica, se vogliamo mantenere che le scuole aperte, che l'università riapra per poter lavorare in sicurezza. Abbiamo bisogno di importanti finanziamenti, senza considerare che il finanziamento di queste attività sanitarie rappresenta qualcosa come l'11% di un settore, il finanziamento di un settore che rappresenta l'11% del PIL. Quindi è un settore che contribuisce alla white economy, globalmente intesa dalla fabbrica che fa i tamponi o le siliche fino a chi sta in prima linea. Ecco, il tutto è l'11% del PIL del nostro paese. Quindi non è uno scherzo, non è pur assistenzialismo. È attività fondamentale che contribuisce alla ricchezza e alla salute del nostro paese. Grazie. Grazie.